attento che te va attento che te scegli c'è una luna a me inzumare mamma mia mamma di dare figlia mia che da dare mamma mia pensaccia tu se te peglia lo pesciaiole is vai is vene sempre lo pesci a malatena 66 e 70 16? oh cavolo no sa meno perché a 18 anni e 19 ci siamo sposati quant'anni c'avevi? io mi ricordo che l'ho sempre conosciuto l'ho sempre visto io sono venuto quando mi sono congelato la prima volta nel 66 già veniva a prendere i danni già ammazzato 67 67 52 e 10 62 è 15 anni sì 15 anni 14 o 15 15 metri Sì, ma io non? 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 Sì, ma io non?